Maria Teresa Prestera, Vicepresidente World of Colors, siamo a ridosso del grande evento del 7 dicembre. Buonasera, ormai siamo arrivati anche quest'anno all'appuntamento clou della nostra raccolta fondi e delle nostre iniziative che per tutto l'anno ci impegnano e che ci vedono proiettati verso questa ultima serata del 7 dicembre. Quest'anno vi siete concentrati per una raccolta fondi dedicata al territorio di appartenenza, non più l'Africa quindi? Sì, noi lo nasciamo come associazione che si dedica soltanto all'Africa, l'abbiamo sempre detto, anche se poi i progetti principali nei due anni precedenti sono stati proprio dedicati all'Africa, alla Guinea-Bissau. E' in fase di ultimazione la scuola che abbiamo finanziato l'anno scorso e che sarà dedicata a Pino Mango e quest'anno invece abbiamo deciso di dedicarci al nostro territorio perché c'è stata chiesta una mano, un aiuto per una situazione qui locale e quindi abbiamo deciso di dedicarci al nostro territorio. I fondi di quest'anno infatti saranno finalizzati alla realizzazione dell'allestimento di una sala di musicoterapia per ragazzi disabili in una struttura Anfas, il dopo di noi, che è un progetto che prevede l'accoglienza dei ragazzi disabili che non hanno più nessuno che si possa prendere cura di loro. E anche questa sarà dedicata a Pino Mango. La musica di Pino Mango sta diventando un punto centrale, lo sarà anche il 7, una piccola anticipazione? Allora, Pino è la persona che ci ha aiutato di più, perché quando noi siamo nati nel 2013, quando ancora forse noi non credevamo davvero di poter realizzare i progetti che avevamo in mente, lui ha creduto in noi. È stato il primo a crederci, il primo a sostenerci e ricordo ancora le prime parole che lui ci ha dedicato, dove ha detto ragazzi siete lucani, riuscirete in quello che avete in mente. Quindi per noi, dopo quello che è accaduto l'anno scorso, dopo che lui è venuto o meno qui nella nostra città, sul nostro palco, noi abbiamo, mentre inizialmente avevamo pensato di non far più nulla, dopo abbiamo invece realizzato che dobbiamo andare avanti anche per lui, per quello che lui ha fatto per noi, cioè lui pur essendo stanco ha cantato per noi, ci ha regalato le sue ultime canzoni. Noi dobbiamo portare avanti anche per lui quello che è il nostro progetto e donarci agli altri, donando anche un po' lui. Il 7 ci sarà un momento, noi andiamo avanti come associazione con i nostri obiettivi, ma una parte dello spettacolo sarà dedicata a Pino. Non abbiamo un unico artista, perché non abbiamo voluto sostituire Pino, ma abbiamo tanti artisti che hanno voluto essere qui per ricordarlo e per dare a noi l'idea che Pino ci sia, perché Pino c'è, Pino Mango è ancora tra noi, lo è con la sua canzone, lo è con la sua musica e noi quella sera cercheremo di viverlo nel modo migliore, non con tristezza, ma di viverlo così come lui era, una voce del sud, una voce della Lucania.